Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Bentornato ad Antonio Chefallo. Antonio è già stato nostro ospite in occasione del dibattito sul referendum costituzionale, che avevamo organizzato noi presso l'aula consigliare. Antonio, al quale sono legata da profonda amicizia e stima, è un giornalista, ha alle spalle attività politica, è stato vice sindaco del Comune di San Manco, promotore di diverse iniziative culturali, tra cui il noto Festival Trame, ideatore del premio Murricello. E qui in veste di scrittore per presentare il suo libro intitolato Non vergognatevi di me, la dicitura la prende dal bigliettino che il padre gli fece recapitare dal carcere. Il padre è l'onorevole Chefallo, che è qui, che saluto, che ringrazio. Siamo onorati di averla qui, onorevole. L'onorevole è il presidente storico della provincia di Catanzaro, è sindaco di lungo corso del Comune di San Mangotaquino, assessore regionale. La sua brillante carriera politica subì una brusca interruzione quando fu coinvolto nell'inchiesta giudiziaria Mani Pulite. Un'inchiesta che io non temo di definire una vera e propria caccia alle streghe, di cui se ne ha il sentore ancora oggi. Io concluderei questo mio intervento se Antonio me lo consente, se non intrarci alla tua scaletta, leggendo la ringa difensiva dell'avvocato di Polito, per rendere l'idea di quello che avete subito e anche per rendere un omaggio a questo straordinario avvocato calabrese che non c'è più. Allora, presso la Corte di Appello di Catanzaro. Sono anni che faccio questa professione, ma poche volte mi è capitato di affrontare un processo in cui gli errori sono ripetuti in un modo incomprensibile. Ho studiato tutti i documenti, avendo sempre presente la sette di verità di un uomo che mai avrebbe dovuto trovarsi qui. Un uomo che io conosco come persona per bene e come politico appassionato. Un uomo che ha subito un'ingiustizia tale da non poter essere sanata da alcuna sentenza di assoluzione. Un uomo che da quattro anni aspetta la restituzione dell'onore e della dignità con le quali ha sempre condotto la vita. Quindi un lasso di tempo che non vi restituirà mai nessuno. Quindi perché tra l'agonia mediatica e l'assoluzione c'è comunque, passa molto tempo in cui l'ombra, la vergogna non te le risarcisce nessuna sentenza di assoluzione. Comunque l'onorevole Keffall ha ripreso la propria attività politica con forza, con determinazione e coraggio come pochi se pensiamo ai morti innocenti che non hanno retto la pressione. Ed è per questo che mi auguro che la lettura di questo libro funga da monito ancora in questo tempo. Doverosi ringraziamenti da parte mia e dai colleghi consiglieri Salvatore Aiello e Carlo Sacco. Anche perché noi organizziamo gli eventi con risorse nostre, non attingiamo da altri fondi, per cui ogni aiuto è sempre molto apprezzato. Quindi colgo l'occasione per ringraziare per il lavoro svolto Serafino Guerino, Anna Gentile e Teresa Gentile, il mobilificio Durante, l'azienda Acqualea, Santina Gentile, Fortunata Mancuso che troverete al banchetto dei libri, Antonio Mangiacasale e Matteo Pettinato per il service, Giuseppe Arcuri, Marco Pettinato, Gabriele Talarico, l'emittente televisiva Liberi.tv e l'associazione Carlopolis per averci fornito l'energia elettrica. Ringrazio pure il nostro parroco Don Salvatore Gallelli. Saluto e ringrazio il vice sindaco del comune di Tiriolo, l'avvocato Balsamo e ringrazio di cuore Antonio Chefallo per aver scelto come tappa a Carlopoli. La sua agenda era piena, ha fatto tappa nelle principali città italiane e quindi avrebbe potuto declinare il nostro invito. Ringrazio ognuno di voi per essere qui e vi auguro buon proseguimento. Iniziamo con la prima lettura. Non avevo sentito nulla, nessun rumore, nessuna voce, niente di niente, ma quando scesi in soggiorno poco dopo le sette trovai mia madre seduta sul divano col viso stravolto. Sono venuti due agenti in borghese, lo hanno portato in segreteria per una perquisizione. Nient'altro. Pensai subito al peggio. Era da un po' che a casa si parlava di un'inchiesta in corso. Mio padre non aveva mai affrontato il discorso, ma non mi era sfuggita la sua preoccupazione nei ultimi tempi. Strana per un uomo come lui, pronto ad attenuare ogni problema con il sorriso. È successo qualcosa, ne sono sicuro, ripetevo a bassa voce. Ma vado in segreteria a vedere se c'è qualcuno. Speravo di sapere qualcosa di più su quello che era accaduto. Arrivata al portone d'ingresso, infilai la chiave nella serratura. Le mie mani iniziarono a tremare. Entrai nella prima stanza, dove gli ospiti aspettavano prima di essere ricevuti. Vidi una bottiglia d'acqua su un tavolo, con a fianco un bicchiere di carta. Non c'era la sera prima. Avevamo avuto una riunione e avevo sistemato tutto io. Non ci misi molto a capire. Ha bevuto per riprendersi da quello che i due agenti gli hanno detto. La mia fronte si rimpri di sudore e sparì ogni dubbio. Dio mio, lo hanno arrestato. Presi la bottiglia e la scaraventai contro una parete della stanza, facendola finire in mille pezzi. Con un calcio speziai il piede di una sedia. E adesso? Che faccio? Cosa cazzo faccio? Anzi, mavo. Mi fermai a riflettere. Devo tornare a casa. Mia madre era sola. Qualcuno avrebbe potuto avvisarla e volevo essere lì. Rientrai subito. Lei stava ancora inchiodata a quel divano. Le dissi. Forse lo hanno portato via. Dobbiamo aspettarci di tutto ed essere forti. Lo so, figlio mio. Lo so. Stava immobile, con lo sguardo fisso al muro. Aveva capito anche lei. Era lunedì, 20 dicembre 1993. Mancavano quattro giorni alla vigilia di Natale. Un Natale che avrebbe segnato per sempre la nostra vita. Ed io avevo 23 anni. Tanto lo accennava prima Emanuela. Siamo alla fine del 1993. Ci troviamo nel bel mezzo di quelle inchieste giudiziarie che sconvolsero e misero in ginocchio l'intera classe politica italiana. Gli anni di Mani Pulite. Gli anni del tintinnare delle manette. Quello delle carcerazioni preventive è uno dei punti più criticati di Mani Pulite. Ma siamo anche negli anni dei suicidi. Questa vicenda si può benissimo dire che parte dalla procura di Milano, perché le procure di tutta Italia si mostrano su quell'onda lì. Nel libro l'Antonio Figlio diventa un tutt'uno con l'Antonio Giornalista. Ci sono i momenti di tenerezza. Quello che mi viene in mente subito è il buon Natale, buon anno papà sussurrato fuori dal carcere di Lamezia. Ma c'è l'Antonio Giornalista che racconta i fatti con dovizia di particolari senza lasciarsi andare a delle critiche che potrebbero sembrare anche legittime, visto quello che stavate subendo. Soltanto alla fine, con la lettera di Moroni pubblicata alla fine del tuo libro, tu prendi la posizione, si può dire. L'idea di scrivere questo libro, quindi di rivivere in qualche modo quegli anni, è nata in un momento preciso oppure l'hai meditata a lungo? Intanto buonasera, grazie a Serafino, grazie ad Emanuela per avermi invitato qui a Carlopoli e grazie a voi di essere venuti ad ascoltarci. Perché la presentazione di questo libro, essendo una vicenda legata ad un momento di vita vissuta personale molto dolorosa, non è mai semplice da raccontare. E la vicinanza che voi mi avete spesso in più di qualche circostanza è sicuramente un elemento che aiuta e che è di sostegno in incontri di questo genere. Perché l'emozione quando, nonostante io abbia fatto, credo, superato le trenta presentazioni, l'emozione è sempre dietro l'angolo. Perché rivivere quel periodo, attraverso anche l'ascolto delle pagine, per come ha fatto mirabilmente Anna poco fa, suscita sempre un po' di tumulto interiore. E questo tumulto è legato alla ragione per cui poi alla fine ho deciso di scrivere questo libro. Che nasce proprio dalla necessità di dare una risposta alla nostra famiglia è una risposta ai miei figli, perché i miei figli non sapevano che il nonno fosse stato arrestato e mio figlio Ludovico aveva qui 16 anni, andò a smanettare sulla rete digitando il nome del nonno e venne fuori questa vicenda. Io non avevo mai detto nulla perché ritenevo che fosse giusto che a raccontare quello che era accaduto fosse il nonno. Quando però sono venuti da me ho dovuto dire in modo sommario quello che era accaduto e in quel momento è venuta la voglia e anche la necessità di scrivere questo libro perché era un po' un atto di, non dico dovuto, ma comunque io lo ritengo un atto dovuto nei confronti della storia della mia famiglia ed anche un momento di riflessione perché voi vedete quello che sta succedendo oggi, noi in quel periodo era periodo di gogna, era un periodo di grandissima gogna mediatica in cui i politici venivano additati per le strade, insultati, qualcuno veniva sputato e in questo, diciamo, turbinio finivano anche le famiglie dei politici. Noi, devo dire, non l'abbiamo vissuta fortunatamente in quel modo perché noi abbiamo, e grazie a questo probabilmente siamo riusciti a superarla meglio di altri, noi abbiamo avuto grandissimi momenti di solidarietà da parte delle persone e questo un po' da anche la cifra del lavoro che aveva fatto mio padre, però quelli erano momenti terribili per cui finivi nel tritacarne e non avevi minimamente la possibilità di difenderti, non esisteva nessuno perché venivi schiacciato immediatamente. Oggi quel sistema, seppur in toni diversi, in una situazione, diciamo, estremamente mutata, perché io non voglio dire che oggi finire in galera sia una passeggiata, però sicuramente viene vissuto in termini meno dolorosi, no, però c'era un sistema, un modo di fare politica di quei tempi che era diverso, per cui l'onore era un fattore veramente significativo e non solo nei confronti di se stessi, nei confronti della propria famiglia, ma anche nei confronti di tutti quegli amici che per mio padre si spendevano e che rappresentavano per noi una famiglia allargata, per cui il peso di quella vicenda ce lo portavamo sulle spalle anche perché era un peso che noi condividivamo con tutti quelli che ci avevano creduto. E quindi se vedete oggi quello che succede, io in questi giorni ho assistito, ma non solo in questi giorni, capita frequentemente, a dei meccanismi terribili perché i social sicuramente hanno introdotto importanti forme di comunicazione, ma oggi ci sono delle degenerazioni pesantissime. Tu scoppia una vicenda soprattutto da chi la vuole strumentalizzare da una parte e dall'altra politicamente e tu vedi che ci sono persone che basta che siano semplicemente iscritte nel registro degli indagati o anche che subiscano provvedimenti che vengono immediatamente prese come se fossero già condannati. Con le fotografie che girano per centinaia di migliaia di link per tutta Italia e tu vieni massacrato. È avvenuto anche in questo periodo senza che abbia la possibilità di difenderti. Una società che consente l'uso spregiudicato dell'agonio non è una società civile. Sentiamo la seconda lettura, vediamo come è nato il titolo del libro, anche se lo ha già accennato Emanuela I. Alle due arrivò però una strana telefonata. A parlare la voce preoccupata di un uomo che mi chiese se fossimo a casa e se potesse passare per darci una cosa importante. Non spiegò altro. Venga pure. Non ne parlai con nessuno, ma ero impaziente di vederlo per capire cosa volesse. Mezz'ora dopo suonò il citofono. Mi trovai davanti un signore di mezz'età che non conoscevo. Si presentò. Lavoro al San Francesco, in pallidei. Ero un agente penitenziario. Lo fissai dritto negli occhi per cercare di intuire cosa fosse venuto a fare. Prego, si accomodi. Non dovrei essere qui, ma ho qualcosa che il signor Leopoldo mi ha pregato di consegnarvi. Infilò le mani nella tasca del pantalone e tolse un foglio di quaderno a righe, piegato in due. Abbasso gli occhi mentre me lo porgeva. Vi prego di non farne parola. Sto rischiando molto, ma non me la sono sentita di dire di no. Si avviò verso la porta e, prima di uscire, disse «Stia tranquillo, sta bene». Non chiesi altro. Lo ringraziai. Appena si allontanò con la macchina, mi precipitai a leggere il biglietto. Ad Antonio, Renato, Ida. Mi fermai un attimo per prendere fiato. Poi lo aprì. «Non vergognatevi di me, sono innocente». Lo guardai di nuovo. «Non vergognatevi di me, sono innocente». Mi lasciai andare come un peso morto sul divano, con la testa tra le mani. Iniziai a piangere. Non riuscivo a fermarmi. Fui costretto a uno sforzo enorme per calmarmi. In quei lunghi cinque anni, tanto durò la vicenda della nostra famiglia, non ricordo di aver mai perso il controllo come allora. Quelle poche parole furono prima di tutto la presa d'atto di come stessero davvero le cose. Lui era a pezzi. Il quadretto che avevo tentato di costruire per tranquillizzarmi era crollato. Cercavo di ragionare, ma la rabbia prese il sopravvento. Iniziai a camminare su e giù per la stanza, con le mani dietro la schiena e gli occhi serrati. Avevo caldo e sudavo. Fu allora che mi resti conto di non essere mai uscito da casa in quei primi giorni. Non c'era stato il tempo di farlo. Forse ero io che non mi ero voluto muovere. Ma ora non potevo più permettermelo. Non dopo quel biglietto, non dopo quelle parole. Non vergognatevi di me, aveva scritto mio padre. Come poteva pensare una cosa del genere? Vergognarmi io, di lui? Era un pensiero che non aveva mai sfiorato la mia mente. Anzi sentiva ancora più forte l'orgoglio di essere suo figlio. In preda a una crisi di nervi, pensavo a cosa avrei potuto fare per mostrare la mia forza. Decisi allora di andare in tutti quei posti in cui lui era solito passare ogni giorno. Volevo parlare con le persone che incontrava, guardarle in faccia, far capire che non mi nascondevo, che non temevo nulla e che ero fiero di lui. Non vergognatevi di me, sono innocente. Quel bigliettino è stato scannerizzato sulla copertina del libro. E poi i fatti gli diedero ragione perché venne assolto. Però, Antonio, questa è una domanda che devo farti. Nei primi giorni, che sono quelli dove il mondo ti cade addosso, dove la confusione regna sovrana, dentro di te, anche solo per un attimo, il dubbio che papà, magari non volendo, avesse potuto compiere qualche errore. Ti è mai venuto? Ma non era proprio nell'ordine delle idee. Io sono sempre stato abbastanza equilibrato, perché parlare da figlio non è semplice, perché un figlio di solito il genitore lo difende e si difendono. Io ogni tanto vedo in televisione i figli di questi grandi boss mafiosi, Totorina, Provenzano, che non proferiscono parola nei loro confronti. Mi viene in mente che è difficile far comprendere l'equilibrio di un figlio rispetto alla valutazione che si dà di un padre. Ma io mio padre lo seguivo da quando ero ragazzino. Lo seguivo nelle situazioni politiche, non solo in quello che si dice a casa, perché normalmente anche a casa un ladro non ti viene a raccontare e ti dice guarda che io ho rubato. Però mio padre lo seguivo, ho seguito, ho visto quello che ha fatto in quegli anni, ho visto come è cresciuto, la passione che metteva nelle cose che faceva e il tipo di educazione che mi ha dato. Io un po' in giro, quando vado in giro nella presentazione di questi libri, poi mi fermo a raccontare alcuni episodi che sono la cifra un po' dell'educazione alla quale noi eravamo stati abituati e nella quale noi eravamo, nei cui principi eravamo cresciuti. Io mi ricordo, il Presidente della provincia voi dovete sapere, che sul lago Ampollino c'è una residenza estiva, dove può andare sia per riunioni politiche che per eventualmente passare delle giornate con la famiglia, con tutti quanti. Era una residenza proprio sul lago, con diverse stanze da letto, alcune anche con il caminetto, quindi una bella residenza. E tant'è che molti figli di altri consiglieri comunali, non facendo poi sostanzialmente nulla di male, qualche volta ci andavano a passare la giornata, o ci dormivano per poter... Io in cinque anni in cui mio padre è stato Presidente della provincia non ci ho messo mai piede, perché se mio padre fosse venuto a sapere che io andavo con gli amici in questa residenza, come dico quando ne parlo, mi avrebbe accompagnato a calci dal lago Ampollino fino a San Mangolaquino, perché per mio padre era inconcepibile che si potesse utilizzare un luogo e un'istituzione per divertirsi, per passare del tempo libero ed utilizzarlo a fini di divertimento personale, così come Villaggio Palumbo, che è un villaggio che è cresciuto e si è sviluppato sotto i dieci anni in cui mio padre è stato Presidente della provincia e Assessore provinciale, c'era il Bobbo che costava un sacco di soldi, i soldi non è che giravano come adesso, quindi mia madre mi dava, mi ricordo, 25 mila lire, il Bobbo costava 5 mila lire al giro, quindi ti facevi un calcolo, due giri e poi andavi a mangiare. Siccome Palumbo era il proprietario di quel villaggio e sapevo che mi era capitato una volta che mi fece mangiare gratis e mi diede un sacco di biglietti del Bobbo, io non potevo andargli a chiedere perché mio padre mi abbia preso sempre come prima a calci nel sedere, allora che facevo? Passeggiavo davanti il suo studio nella speranza che quello mi incontrasse, così se mi vedeva mi regalava sti biglietti, però non ci andavo e non ci andavo perché non era pensabile che io mi potessi presentare in qualità di figlio del Presidente della provincia e approfittare del titolare per avere dei biglietti. Questo era il sistema di educazione in cui sono cresciuto, sono due esempi, se vogliamo anche banali, ma che comunque ti danno l'idea di come mio padre intendeva la politica, non esisteva come intendevano gli affari, mio padre era lontano dagli affarismi, dagli affaristi, quando chiedeva qualche cosa e qualche cortesia la chiedeva sempre a fini di utilità pubblica, un certo personale, quindi l'idea che lui potesse essere colpevole di qualche cosa proprio non mi sfiorava nella testa, quello che mi sfiorava invece e la grande preoccupazione era che cosa poteva fare, quanto potesse reggere lui all'interno del carcere, perché proprio per questo senso dell'onore e anche perché nei mesi e nelle settimane precedenti noi ci fermavamo a discutere del trattamento che spesso le famiglie avevano fuori, sapevo che lui era preoccupatissimo, sarebbe stato preoccupatissimo di eventuali ritorsioni o atteggiamenti negativi nei nostri confronti e che questo era forse il suo pensiero peggiore, per molto tempo ho avuto veramente la preoccupazione, mi svegliavo la notte con gli incubi quando riuscivo poche ore a dormire e con l'idea che qualcuno mi chiamasse e mi fosse che tuo padre si è tolto la vita. Io per questo ho messo la lettera di Moroni perché guardate che quella lettera quando si pensa con un attimino di calma a quello che ha fatto questo deputato è terribile, se voi leggete queste parole, questo deputato in maniera lucida scrive una lettera al Presidente della Repubblica dove gli dice io nella mia vita non ho mai rubato, nella mia vita non ho fatto niente di male, ma per questo meccanismo che c'è non riesco a difendermi, non riesco a difendere l'onore della mia famiglia, non riesco a difendere il mio onore e so che ci sono tante altre persone che vivono lo stress o dramma che ho vissuto io e quindi forse l'unica cosa che mi resta da fare per cercare di spingervi a riflettere è quella di togliermi la vita. Scrisse questo bigliettino e dopo averlo scritto si uccise, questa lettera non era un bigliettino, quindi immaginate che livello di sconvolgimento umano e personale doveva avere questa Moroni per arrivare a compiere un gesto del genere. La preoccupazione io ce l'avevo ed ecco perché poi ho insistito per molto, dopo un po' di tempo mio padre non ci voleva nel carcere, non voleva, diceva all'avvocato che la mia famiglia qui non ci deve venire, però dopo che il Tribunale della Libertà in prima istanza rispinse la scarcerazione io chiamai l'avvocato e gli dissi io devo andare o con il suo consenso, senza il suo consenso devo andare a trovarlo in carcere. E per fortuna quel momento è stato superato da parte nostra ma da parte sua e lui lo ha sempre detto, se c'è una cosa che mi ha dato la forza di sopportare tutto quello che stavo sopportando era l'assoluta convinzione della correttezza delle mie azioni. Questa è stata la stella polare che nel carcere mi ha guidato per cui io sapevo di essere una persona per bene, quindi questo mi ha aiutato a superare tutto ed è stato di sostegno anche a noi, ma questo atteggiamento è ricorrente perché quando c'è stato il primo interrogatorio, io mi sono nascosto, anche quello sarebbe una cosa da raccontare, volevo salutarlo e l'avvocato mi ha detto fatti trovare davanti al carcere perché così puoi abbracciarlo. Dieci minuti prima del sorrivo l'avvocato venne verso di me e dice tanto allontanati, non ti farei trovare perché tuo padre magari può avere un cedimento emotivo e mi sono nascosto in una macchina per vederlo senza farmi vedere. Quando usci dal tribunale c'erano nella piazza un altro po' di amici che erano venuti come me per salutarlo, lui ripetè le stesse parole del bigliettino salutandoli con la mano, ancora mi ricordo perché quelle immagini sono stampate nella mia memoria, aveva un maglioncino blu, con la mano alzata disse sorriso sulle labbra ragazzi perché non abbiamo nulla di cui vergognarci, entrò nella macchina dei carabinieri e poi se ne andò. Sentiamo la terza lettura. Quel giorno non riusciva a stare dentro casa, avevo bisogno di allontanarmi, di non vedere il volto distrutto di mia madre, non avevo parole di consolazione per lei, né per mia sorella Ida, una fragilità la sua che le impediva di parlare per ore. Stavano intanata nella sua stanza per uscirne solo quando non poteva farne a meno. Più di una volta l'avevo sentita piangere dietro la porta chiusa. No, quel giorno non me la sentivo di reggere tutto questo. Mamma, vado a casa di alcuni amici che mi stanno aspettando. Non era vero, decisi di andarmene in segreteria. Arrivai poco prima delle undici ed entrai nell'ufficio di mio padre. Una piccola stanza con una scrivania, due sedie e di fronte un divano su cui mi sdrai dopo aver acceso la radio. Volevo ascoltare un po' di musica, la compagna di sempre, il mio rifugio nelle notte insonni, nei momenti difficili, l'amica che non tradiva mai. Un mio professore delle scuole medie, Rotella, ripeteva spesso, chi ama la musica non è mai solo e io non ero mai stato solo. Steso, con gli occhi chiusi, mi lasciai andare fino al pomeriggio tardi, finalmente un po' di pace. Poi la radio trasmise una canzone di Domenico Modugno, amara terra mia. Cieli infiniti e volti come pietra, mani inchellite, ormai senza speranza. Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Mi risvegliai dal torpore che mi aveva accompagnato fino a quel momento. Quella canzone aveva una funzione catartica per me. La cantavo spesso con i miei amici nelle strine natalizie. Quelli che a uno a uno erano andate via da San Mango per cercare lavoro fuori. Massimo, Franco, Claudio e ancora Antonio, Pasquale, Pasqualino e altri. La urlavamo stretti l'uno all'altro per ricordare il nostro tempo e la crudeltà di una terra che ci aveva visto crescere insieme e che ci aveva diviso negli anni. Una terra bellissima e amara. Era un socialista anche per questo. Per sperare in un tempo in cui nessuno sarebbe stato più costretto a fare le valigie per vivere. La rabbia mi entrò di nuovo nelle ossa. Mi alzà il discatto. Spensi la radio. Presi il mio Montgomery e uscì per tornare a casa. Mentre stavo chiudendo la porta, sul pianarottolo notai dei segni sopra il campanello. Una parola scritta sul muro, incisa probabilmente con una chiave. Mi avvicinai per leggere meglio. Ladro. La fissai per un attimo, poi mi girai e andai via da lì. Nel libro c'è anche un altro episodio che io ritengo forse ancora più grave perché lo assunse un agente di polizia con un atteggiamento provocatorio e ti disse le stesse cose. Lì tu la tua reazione la descrivi. Avresti voluto reagire magari in malo modo però per paura che tuo papà potesse subire delle ripercussioni in carcere sei stato fermo e zitto. Qui dici soltanto che andasti via. La tua reazione però quale fu dentro di te oppure che cosa hai fatto subito dopo essere rientrato a casa? Diciamo che era nel conto che qualcuno potesse avere un atteggiamento del genere o comunque considerare la storia di mio padre alla stregua di quello di una persona poco per bene perché è vero che noi abbiamo avuto tantissima solidarietà. Per giorni interi casa nostra è stata sempre piena di persone. Mio padre subito dopo l'arresto, dopo essere stato messo in libertà si tenne a San Mangu una manifestazione politica che in sostanza era una manifestazione di solidarietà nei confronti di mio padre a cui parteciparono 500 persone. Di quei tempi manifestazioni di solidarietà a favore di politici arrestati non esistevano, ma proprio non si minimamente prendevano in considerazione. Però ci sono stati anche episodi di questo genere, ce ne sono stati più di uno, ci sono state persone che hanno brindato quando mio padre è stato arrestato, avversari politici storici, ce n'è stato uno che dopo tanto tempo me lo è venuto a raccontare, ma di tanto io mi rendo conto adesso della grandissima sciocchezza che facemmo noi in quel periodo quando si trovarono 3-4 persone in una casa e finirono per brindare all'arresto di mio padre. Tutto sommato devo dire non so il trattamento sui giornali perché mi sono ripromesso ed è quello che feci nei primi 3-4 giorni, mi die di ordine a casa di non comprare i giornali e di non accendere la televisione, perché non volevo assistere, mi è capitato una volta di leggere un articolo e devo dire che fu abbastanza equilibrato, però oggettivamente il trattamento riservato sui giornali non l'ho mai saputo perché non li ho letti in quel periodo. Ci sono stati episodi di questo genere, lo sapevamo, li mettevamo nel conto, sono stati meno di quelli che io immaginavo, pensavo, ampiamente compensati dai gesti di solidarietà, però ci sono stati. Quella del poliziotto è stata veramente una cosa brutta, brutta non tanto per l'atteggiamento del poliziotto di strafottenza. Tu addirittura, scusami un attimo, nel libro di Gio conosciuto uno sbirro. Sbirro, sì, perché io ero cresciuto in un ambiente alla mezza di quei tempi, c'erano anche a scuola dove andavo molti ragazzini che erano stati bocciati 7-8 anni a scuola, si apprestavano a prenderci la pensione, ma erano un po' questi bulli, anche figli di famiglie malavitose, per cui avevano un atteggiamento nei confronti della polizia molto irridente. E io ero sempre quello che difendevo. Tu mi hai detto prima, non c'è rabbia nel libro, non c'è rabbia, è vero, non c'è rabbia nei confronti della magistratura, perché io ho sempre distinto tra i magistrati che sbagliano e quelli che fanno il loro dovere. Voi non dovete, io non ho mai dimenticato e ve lo ricordo qui stasera, che l'anno precedente all'arresto di mio padre furono uccisi Falcone e Borsellino. Per me Falcone e Borsellino rappresentavano la possibilità di liberarsi dal gioco della criminalità organizzata, perché in quegli anni l'idea che c'avevamo tutti è che la mafia non si potesse sconfiggere in nessun modo. I più giovani che vedo qui non se lo ricordano, ma molti come me ricorderanno sicuramente la serie televisiva La Piovra, che fu di grandissimo successo. Era una serie bellissima, finiva sempre però in un modo, i mafiosi vincevano sempre. Ed era la realtà dei fatti, perché fino a quando non arrivarono Falcone e Borsellino, tu non ne vedevi i capi mafio arrestati, condannati, che finivano in galera. Loro fecero un'operazione incredibile in cui dimostravano che lo Stato può e lo hanno pagato con la vita. Quindi io non ho mai messo sullo stesso piano tutti quanti. Ci sono stati dei giudici che hanno sbagliato per incompetenza, ci sono stati giudici che hanno sbagliato per voglia di protagonismo, che poi questi sono i peggiori. Ci sono giudici che hanno sbagliato semplicemente perché hanno commesso degli errori e può avvenire, ma non in mala fede. Fatto sta che in quegli anni tanti galantuomini, vi posso assicurare, tanti galantuomini sono finiti in galera. A Nocera Terinese arrestarono pure uno che era morto da 3-4 mesi. Si presentarono davanti a casa e lo arrestarono, la moglie gli disse guardate se lo volete prendere al cimitero di Nocera. Per dirvi come in quel periodo ci furono degli errori veramente marchiani, tant'è che le assoluzioni e i risarcimenti sono andati a valanga. Però il problema che io pongo e forse è anche un'altra delle questioni per cui ho scritto il libro, è che mio padre ha potuto difendersi, si è potuto difendere e non solo dal punto di vista economico, perché lui ha avuto la fortuna di non dover pagare una marea, perché se lui avesse dovuto pagare le spese legali per quello che ha passato, per gli avvocati che lo hanno difeso ci saremmo dovuti vendere un appartamento. Fortunatamente poteva contare su avvocati amici, per cui gran parte del lavoro che è stato fatto è stato fatto anche come insegno di amicizia, ma ha avuto la forza politica anche di riprendersi, perché era un personaggio noto, ma la persona normale che tutte queste tutele personali non ce le ha, come fa? Una persona normale, una qualsiasi, senza dire un impiegato, un contadino, uno qualsiasi che porta uno stipendio e che tra tanti sacrifici manda avanti una famiglia non ha santimparadiso, non ha conoscenze, come fa? Io ho sempre presente nella mia testa, intanto ho conosciuto persone che si sono ipotecate la casa, i terreni, che hanno venduto casa, che si sono rovinate la famiglia, la salute, per difendersi in processi nei quali non sarebbero mai dovuti andare e finire. Il punto è proprio questo, perché una giustizia che non fa giustizia colpisce prevalentemente i deboli, che non hanno modi e meccanismi per difendersi, che subiscono dei danni nella vita, che difficilmente si riescono a riparare. Guardate che c'è gente che ha avuto il cancro per la sofferenza subita e non sono cose che sono veramente cose che si sono verificate, hanno passato momenti terribili e questo discorso bisognerebbe tenerlo presente e bisognerebbe fare in modo che in una nazione civile i magistrati sbaglino il meno possibile, perché come ti dicevo appunto le conseguenze poi le pagano i più deboli e Berlusconi i milioni di Euro per difendersi ce le ha avuti, tante altre persone ce le hanno avuto, mio padre politicamente era noto, ma quando poi ci vanno di mezzo le persone normali le conseguenze sono terribili e forse bisognerebbe che si riflettesse in termini di giustizia, la giustizia non dovrebbe essere mai terreno di scontro politico, mai, invece oggi viene utilizzata per colpire l'avversario politico dimenticandosi che l'aspetto di giudiziario, l'onorabilità di una persona è la cosa più importante, perché se a me mi dicono che sono politicamente un incompetente va bene, ci sta, siamo nel gioco, però se mi dicono che sono un ladro è diverso, se mi dicono che sono un delinquente è diverso, l'onorabilità è la cosa più importante che dovrebbe avere qualsiasi individuo, quindi quando viene toccata in maniera ingiustificata si fanno cose terribili e non subiscono le conseguenze soltanto i diretti interessati, perché poi il libro che ho scritto parte proprio da un'angolatura diversa e cioè dal dramma che abbiamo vissuto io e la mia famiglia, mio padre ovviamente c'è ma ha un ruolo, no, sempre protagonista secondario, perché noi raccontiamo, io racconto quello che ho vissuto io e la mia famiglia, perché quando si arresta una persona la sofferenza investe figli, mogli, genitori, sorelle, fratelli che vivono un dramma esattamente come lo vive il diretto interessato, per noi è stato terribile, è stato verificante e ancora oggi ogni volta che ritorno, guardate a me c'è una cosa che mi, quando sono andato a fare la visita in carcere, i cancelli si aprono e si sente esattamente quel rumore che voi ogni tanto nei film lo vedete, quando accompagnano che fanno quella specie di clac, clac, esattamente quello che spesso si ascolta nei film, esattamente in quel modo, io quel rumore non l'ho mai dimenticato e anche quando c'è un film in televisione, e risento quel rumore lì, a me viene un sussulto, perché il cammino in quel carcere fino ad arrivare alla sala del colloquio dove poi è arrivato mio padre è stato un altro aspetto di grande travaglio che peraltro mi ha spinto a riflettere anche su tante cose, io per molti anni sono stato un grande sostenitore della pena di morte, ho cambiato completamente idea, non solo in quella circostanza, ma quella circostanza mi ha aiutato anche di più, perché io credo che nella vita non ci sia niente di peggio che togliere la libertà di un individuo, quindi punizione peggiore di togliere la libertà di un individuo non c'è, lo mettete e lo costringete per anni a stare in una stanza o ad avere il massimo che gli viene concesso che è quello di uscire e di farsi una camminata nel cortile, io penso che morte peggiore di questa non ci può essere. E quindi ho modificato anche il mio atteggiamento rispetto a questa problematica, però tutto per tornare e chiudere la domanda che mi hai fatto tu, non mi ha prodotto nessun sentimento di rancore o di rabbia, sono situazioni della vita che capitano, non dovrebbero succedere, che capitano, noi tutto sommato nonostante le gravissime conseguenze che abbiamo subito anche dal punto di vista personale, ne siamo venuti fuori. Non so se anticipo una tua domanda, però ne prendo spunto, perdonatemi, per aggiungere un'altra cosa, perché poi non c'è soltanto la sofferenza delle persone direttamente interessate, c'è un danno che viene alla collettività. Nel caso della strada che non c'è, che riguarda anche i comuni di Carlopoli, quella strada dopo 25 anni credo che siano stati fatti 10 chilometri, sono stati persi miliardi. Mio padre il 27 doveva andare a firmare un accordo per dei, credo fossero 150, 200 miliardi di finanziamenti che dovevano arrivare alla regione Calabria e che stavano per scadere, che in estremi se lui era riuscito a recuperare e che se ne volarono. Questi danni alla collettività, alle chi li paga, il danno che è stato subito da tante comunità, perché Carlopoli è una bella realtà, ma voi sapete per arrivarci, io ho Antonio che è qui da me, noi lavoriamo insieme, è qui presente stasera, noi ogni giorno deve arrivare alla mezza, si fa un'ora all'andata e un'ora al ritorno di viaggio. Io sapevo che Carlopoli era distante, ma quando sono venuto per la presentazione, ci ero già stato molti anni prima, ma evidentemente non l'avevo, ma quando sono venuto da lì per venire, ho detto Antonio mio, ogni giorno tutta sta strada fai per arrivare alla mezza terme e voi sapete che significa una strada che ti collegava, ti metteva nelle possibilità di arrivare velocissimamente in punti importanti, in snodi importanti. E per questi danni chi li ha pagati? Li avete pagati voi, non solo avete pagato voi il risarcimento di mio padre, 70 mila Euro, voi e anche noi, ma avete pagato tutti quei soldi che la comunità calabrese non ha avuto e mi riallaccio, perdonami, lasciami dire anche quest'ultima cosa, perché poi c'è un'altra questione che a me preme molto raccontare quando me ne vado in giro e lo faccio rivolgendomi soprattutto ai giovani, io nelle scuole e a settembre inizierò un tour all'Università di Lecce, in una scuola di Reggio, di Cosenza, sono stato già in 5 scuole e ne parlo soprattutto con i ragazzi, perché l'idea che hanno fatto passare in questo periodo è che ci sia stata in passato una classe politica di incompetenti, poi a me mi viene anche da ridere, perché penso a quelli di oggi e poi li paragono ai politici che c'erano una volta, che erano dei giganti, che oggi a quelli che ci sono adesso in Parlamento a fare i viceministri o i sottosegretari, mi riferisco a tutti in generale, tutti, senza esclusione di forze politiche, a quei tempi non li avrebbero presi nemmeno, come dire, perché allora anche il ruolo di segretario politico nella segreteria di mio padre, quando si prendeva una persona che veniva a fare il segretario, ma voi lo sapete che doveva avere due attributi così? Sì, perché il segretario non era quello che oggi viene definito segretario, come fanno oggi, che ti preparano la letterina, ti preparano la cosa, il segretario era un intermediario con le persone, si stava dalla mattina alla sera in mezzo alla gente e in tutti quegli anni in cui io sono seguito mio padre, ecco perché la tragedia personale e anche politica, io andavo in giro con mio padre e vedevamo nel 1982-83 ancora c'erano zone in Calabria e nel mio circondario in cui non c'era acqua nelle case, contrade dove non arrivava la luce, contrade dove la gente andava e lavava i panni nelle fontane perché non c'era l'acqua a casa, non c'erano scuole, quando andavo in giro con mio padre una volta sono entrati in una scuola, in una classe che era in una cucina, c'era il caminetto a fianco e di fronte i banchi. Nel 1983 è stato abolito il delitto d'onore, la vecchia classe politica, quella che oggi definiscono di parassiti, perché il discorso dei vitalizi, sapete cosa dispiace a me, non tanto il problema o la questione della togliere o meno, diminuire o meno i soldi, ma l'idea di far passare quella classe politica come una classe di parassiti, quando quella classe politica ha dato i diritti di cui oggi godiamo e che noi abbiamo dimenticato, perché se noi nelle scuole andiamo e abbiamo l'aria condizionata, non è che sono diritti, mi è capitato in una scuola di proiettare le fotografie dei minatori, dei nostri minatori, avantieri hanno ricordato le marcinelle in Belgio, sono quasi 300 italiani nelle gallerie, in quel modo si lavorava, ma voi pensate che oggi si lavora nelle gallerie così? Ci sono stati anni di battaglie, occupazioni, assemblee, lotte, scontri, palate, perché ci prendevamo pure a palate, per riuscire a mettere nelle condizioni gli operai di lavorare meglio, la sicurezza, così come per tutti i diritti che oggi diamo per acquisiti, ma che non esistevano. Non so che si faceva a Carlopoli, ma dalle nostre parti la prima notte di matrimonio e in molte parti della Calabria bisognava stendere il lenzuolo per accertarsi che la donna fosse arrivata in libbata, ma queste cose che noi diciamo scherzando, una volta il livello di, come dire, di approccio nella società era quello e c'erano persone che magari è capitato, io in un libro ho letto le storie di tante donne che nella prima notte non hanno avuto la perdita di sangue o perché l'imene l'avevano perduto da ragazzini in qualche incidente o perché qualcuna ha una conformazione per cui… e queste venivano ripudiate, trattate come delle… l'emancipazione delle donne, una delle grandi donne che ha fatto battaglie di emancipazione delle donne, è chiudo, si chiama Merlin. La Merlin noi perché cosa la conosciamo? Tutti quanti la conosciamo perché ha abolito le case chiuse. La Merlin è stata la prima deputata che all'interno del Parlamento si è battuta per i diritti delle donne e contro queste forme di, diciamo, tra virgolette, non le voglio chiamare scavitù perché è esagerato, però sicuramente di sottomissione delle donne che in quel periodo si manifestavano, delle donne e dei diritti di tante altre persone. Qui vedo le persone che hanno qualche anno in più di me e forse si ricorderanno che nelle carte di identità c'era quella scritta figlio di… c'era quella scritta, sì, figlio di NN. NN significava, diciamo, genitore ignoto, ma NN non è che era una semplice scritta sulla carta di identità, significava marchiare quella persona a vita e marchiare… perché andava una volta, veniva considerato, di fatto uno nesceva senza un genitore, è come se fosse una responsabilità sua e quel marchio ti condizionava nella vita, c'era gente che non si sposava perché era figlio di NN, c'era gente che trovava difficilmente lavoro perché era figlio di NN. La senatrice Merlin, dopo una battaglia di mesi, fece togliere quella infamante scritta sulle carte di identità figlio di NN, che provocava quello che vi ho detto. Ecco perché rispetto a battaglie di questo genere che noi abbiamo vissuto e che ho vissuto accanto a mio padre, che poi lo toccavi con mano, oggi magari tu ti fanno un programma e te lo realizzi una volta, noi andavamo a mio padre e dicevo ho trovato i soldi per costruire una strada e tu vedevi dopo tre anni che la strada avevamo costruita, la scuola avevamo costruita e l'acqua era arrivata e noi toccavamo con mano il lavoro che facevamo giornalmente a favore di queste persone e pensare che la storia nostra potesse essere ridotta alla considerazione di mio padre come un delinquente da parte di qualcuno era un'idea che non potevamo accettare in nessun modo. Sentiamo la quarta lettura. È finita, sudato, stordito e tremante. Pensavo solo a questo. Avevamo vinto una guerra che nessuno di noi avrebbe mai voluto combattere. Nel corridoio del tribunale camminavo avanti e indietro come una scheggia impazzita. Le mani sui fianchi, la testa bassa, non riuscivo a fermarmi. Doveva apparire talmente sconvolto che una signora si avvicinò chiedendo ha bisogno di qualcosa? Non si sente bene? No, grazie, non si preoccupi. Lei è davvero gentile. Con lo sguardo un po' stranito si allantanò e io calmai quella sorta di frenesia che non ero riuscita a controllare. Continuava a ripetermi che avevamo vinto, eppure mi sentivo il cuore in gola. Invece di tornare dentro, senza neanche avvisare mio padre che mi avviai verso il parcheggio dove avevo lasciato la macchina. Mi aspettavano a casa, ma ero così agitato che decisi di andare in spiaggia. Il mare, mio grande amico, mi avrebbe calmato. Il posto più vicino era la marinella, alla mezzia, e ci arrivai dopo venti minuti infernali. Non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo. Avrei dovuto essere al settimo cielo, dispensare sorrisi e abbracci, ma l'unica cosa che mi passava per la mente era scappare da tutti. Lasciai l'auto vicino allo storico lido del finanziere e andai a sedermi a pochi metri dall'acqua, sui ciottoli, tiepidi a sufficienza da regalare una delicata sensazione di tepore. Era una giornata di sole, guardavo quell'immensa distesa di acqua con gli occhi pieni della bellezza che solo la natura può regalare. Anche stavolta ero venuto a raccontare al mare le mie angosce. Lui ascoltava e mi cullava con la voce delle onde. Era così bello guardarlo, respirare i suoi odori, abbandonarsi alla brezza che sfiora il viso. Ti sento, amico mio, aiutami come hai sempre fatto, fammi capire. Il dolore di quegli anni era venuto a presentarmi il conto, inaspettato, vivo. Scoppiai in un pianto convulso che non tentai nemmeno di fermare. Poi, rannicchiandomi di lato sulla sabbia, aspettai che la tempesta dell'anima passasse. Questa vicenda inevitabilmente ti ha cambiato, cambiato te, ha cambiato la tua famiglia. Ancora oggi, Pesa, tu con la tua attività di giornalista, quel periodo in cui scrissi al quotidiano, mi ricordo che una delle prime cose che mi dicesti, stai attento perché con la tua penna puoi fare molto male. Quindi prima di scrivere, verifica ciò che dici. Tu quando scrivi a chiunque scriva, sui giornali capita di dire, scrivere qualcosa che a qualcuno può dare fastidio. Questa cosa ti è mai pesata, ti è mai stata fatta pesare? Cioè, parli proprio tu che hai avuto il padre arrestato? Ti è mai capitato? Qualche volta, qualche allusione c'è stata e in un caso poi, addirittura in un comunicato stampa che fecero alla redazione del giornale, indirizzata alla redazione della Metina, ci fu uno che scrisse, il figlio di quel tal che fu arrestato. Sì, qualche volta è capitato, però devo dire la verità, non mi ha mai provocato nessun tipo di preoccupazione o di problema di nessun genere. Il problema ce l'hai quando tratti argomenti delicati. Io scrivo della cronaca politica di La Mezzia Terme e La Mezzia Terme non è una piazza facile, è una piazza dove c'è malaffare, c'è criminalità organizzata, ci sono politici che non fanno il loro dovere, ci sono politici netti e quando fai un resoconto non puoi nascondere le cose, quindi non è che puoi essere gentile. Quello che io faccio è proprio stare sempre attento, soprattutto quando ci sono di mezzo questioni giudiziarie, perché poi il giudizio politico è un conto, ma le vicende giudiziarie, come dicevo prima, impongono necessariamente un supplemento di attenzione e soprattutto la possibilità poi ai diretti interessati di dire la loro rispetto alle vicende che hanno vissuto. Poi certo ci si trova di fronte a fatti che sono poco contestabili, come è successo a La Mezzia, in un'inchiesta in cui c'è un politico, anzi due politici che intercettati nella macchina attraverso intercettazioni ambientali e videocamere che dicono adesso andiamo mettiti il cappuccio perché se c'è qualche telecamera non ci facciamo vedere, mi sembrava come quelli, non so se vi ricordate che c'era una volta uno che è andato a timbrare per conto di un altro e si è messo una scatola in testa, come se poi l'hanno beccato subito e loro la stessa cosa, però dicevano in macchina, noi andiamo adesso da questo qui, che questo è un capoclan e gestisci un sacco di voti, in quel caso non è che devi aspettare la fine dei processi, ti rendi conto che c'è già qualche cosa che non funziona. Quando invece ci sono le vicende giudiziari o le gogliatti, guardo però poi do sempre la possibilità e è successo anche recentemente alle persone che hanno subito le vicende giudiziari di poter dire la loro, indipendentemente da tutto. È chiaro che quando vivi una vicenda del genere inevitabilmente si è portato a stare più attento, inevitabilmente e ad evitare gli eccessi che anche oggi purtroppo vedo, perché il problema della stampa c'è, esiste e difficilmente riuscirà a cambiare, perché l'obiettivo molto spesso dei giornali è quello di vendere copie, non molto spesso, è quello e quindi si dà in pasto in quel momento alle persone quello che vogliono. Per fortuna non lo fanno tutti, non lo fanno neanche tutti i giornali, ma molti lo fanno e i danni sono incalcolabili. Io in questo vortice non ci sono mai finito. Poi queste vicende, come tutte le vicende dolorose che ognuno vive nella vita, ti cambiano inevitabilmente, ti costringono a fare i conti con te stesso e con il mondo e vedi le cose con un'altra prospettiva, ma io questo lo facevo già da prima, perché mio padre, io sono cresciuto con un padre che si è sempre fortemente calato nella realtà, a casa nostra era una casa aperta a tutti quanti di ogni giorno, la domenica per noi non esisteva, non c'era la domenica come oggi che io me ne vado a mare, io vedo politici che ogni giorno vengono, se no domenica sono... sabato, mio padre tutta la settimana, sabato e domenica era destinata a San Mango, noi andavamo la domenica mentre mangiavamo a tavola seduti, c'erano ai divani di fronte 7, 8, 10 persone che mentre noi mangiavamo discutevamo, poi qualcuno si pigliava con noi qualche cosa da mangiare, era una specie di comune, questo era il modo di fare politica e mio padre più di altro lo ha vissuto in maniera viscerale, perché lui è così caratterialmente, è un uomo estremamente... e perché mi ha sempre detto anche questo, che siamo sempre partiti dal presupposto che quando vengono da te, perché hanno bisogno, hanno dei problemi e chi fa politica deve farsi carico dei problemi delle persone, quindi la mentalità con la quale io sono sempre cresciuto, per me erano normali questo tipo di vita, era questo, per cui ero già abituato con quel tipo di mentalità e lo ero talmente tanto e mio padre è stato sempre talmente tanto calato nei rapporti personali che venivano anche prima della politica su certi versanti e sui quali mio padre non mancava mai, che nel corso degli anni ho assistito anche a tante scene, vedo che è arrivato qui il sacerdote che ringrazio, mi è capitato padre qualche volta, io lo dico scherzosamente, ma vi assicuro di dare l'estrema unzione, perché molte persone prima di morire volevano vedere mio padre, avevano un rapporto, è capitato tantissime volte, persone che si mettevano, si sono fatti seppellire con la fotografia di mio padre nella bara, persone che hanno dato disposizioni che mio padre fosse ad accompagnarli e in tre circostanze mio padre era fuori per lavoro, c'erano verificate cose di questo genere, io fui chiamato dalla famiglia per andare a parlare con queste persone morenti, una volta è capitato proprio come si vede nei film, cioè io mi sono avvicinato, c'era questo signore anziano che proprio stava malissimo, mi sono avvicinato, mi ha detto le parole che mi doveva dire da riportare a mio padre e venti secondi dopo che mi ha parlato è morto, quindi questo era il sistema di vita nel quale io sono cresciuto, quindi ero abituato ad avere rispetto per la sofferenza degli altri, a valutare che le cose non sono sempre come appaiono, poi certo quando ti arrivano queste cose, queste vicende di vita ti aiutano, la sofferenza inevitabilmente ti rende più saggio, perché questo è la sofferenza, la sofferenza rende sempre tutti più saggi, purtroppo il prezzo poi della saggezza è salato come lo pagano tutti quelli che subiscono grandi fatti tormentati nel corso delle loro vite. Adesso ascoltiamo la tua visita al carcere di Lamezia vent'anni dopo e poi do la parola a quello che tu hai definito il protagonista secondario del libro. Sono passati ormai oltre vent'anni dal giorno in cui portarono via mio padre da casa e ho voluto rivedere il carcere, non è la prima volta che lo faccio, in certi momenti sento il bisogno di prendere per mano i ricordi di quel tempo per non dimenticare, capita spesso quando sono in ritardo con le cose della mia vita o quando sembra che le difficoltà stiano prendendo il sopravvento, ma quel portone di tre metri è il segno che tutto può essere affrontato e superato. Ho portato con me la cartella di documenti che giolesamente custodisco, lo apro e leggo. La Corte di Appello di Catanzaro, letti gli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, riconosce a Chieffallo Leopoldo il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, per l'ammontare della somma di 67.500 euro e il dispositivo di risarcimento per il primo arresto, a cui vanno aggiunti gli altri 8.000 euro riconosciuti per la seconda vicenda. Sono bastati a pagare gli avvocati, rientrare nelle spese di quel periodo e nient'altro. Per quattro mesi di galera 75.000 euro, una vita distrutta e una carriera politica spezzata. Meglio di niente, disse una volta un amico. Non credo. E non mi pare di leggere nulla che riguardi me, mia madre, mia sorella, mio fratello. Noi non esistiamo, come non esiste il nostro damma, la nostra disperazione, le emuliazioni, la sopportazione, le notti insonni, le lacrime nascoste, i pugni chiusi. Noi non abbiamo sofferto. Forse è vero, sono le cose della vita. Noi siamo stati i primi, non siamo stati i primi e non saremo gli ultimi. Le cronache sono piene di tristi vicende che non fanno notizia, ma per fortuna non mi sono mai abituato al dolore al tuoi. Non voglio un'anima di vetro. Rammento sempre le ingiustizie e ho imparato a rispettare la sofferenza degli altri. La mia più grande vittoria è stata quella di essere rimasto umano. Richiudo tutto, mi alzo e vado verso la macchina. Prima di entrare mi volto un'ultima volta. Sento ancora il freddo di quel tempo. Riesco a sopportarlo ormai, ma quei giorni amari non li dimentico. Mai. Una cosa che non abbiamo detto che gli arresti furono due, due filoni diversi. Sì, e voglio, mi hai dato lo spunto per precisare una cosa. Sulla vicenda giudiziaria di mio padre non possono esserci interpretazioni di sorta. Nel senso che spesso quando una persona viene condannato, viene assolta, c'è sempre poi la polemica, ma era giusto, non era giusto, ma è stato condannato, invece era innocente, è stato assolto, invece era colpevole. Nel caso di mio padre il problema non si pone, perché per la prima vicenda lui si è fatto 30 giorni di carcere, 20 di arresti domiciliari, si è andato a processo, c'è stata l'assoluzione piena e contro l'assoluzione l'accusa non ha fatto ricorso, riconoscendo di fatto che il procedimento era assolutamente infondato. Nel secondo caso si è fatto 5 giorni di carcere, perché poi è stato subito annullato e non si è andato neanche a processo, in fase istruttoria è stato prosciolto e contro il proscioglimento l'accusa non ha fatto ricorso, riconoscendo ancora una volta che l'errore è commesso. Quindi dal punto di vista giudiziario non esistono dubbi sulle vicende di mio padre, che tra l'altro se non fossero state drammatiche verrebbero a ridere, perché insomma due arresti nel giro di sei mesi, il secondo peraltro, questa ve la voglio raccontare, che simpatica. Il giorno dopo, il giorno prima dell'arresto mio padre andò a Pompei, dalla Madonna di Pompei con la famiglia per in qualche modo un aiuto a superare questo momento difficile che era venuto. e il giorno dopo, la sera è tornata, il giorno dopo l'hanno arrestato due volte. Evidentemente la Madonna di Pompei l'ha voluto mettere alla prova ulteriormente, però fu arrestato. E quindi le vicende poi si sono concluse in questo modo, però sono stati due arresti, due arresti che comunque hanno cambiato la nostra vita, hanno portato gravissimi danni alla regione Calabria e ti tolgono anni di vita che poi non puoi più recuperare. E' vero che mio padre è tornato a fare politica, è tornato in consiglio regionale, ha fatto il sindaco di San Manco per molto tempo, però lui allora era destinato a diventare presidente della regione Calabria, era destinato a fare una carriera completamente diversa e una carriera che io credo la regione Calabria avrebbe fatto molto bene, perché mio padre non è mai stato un tattico della politica, uno di quelli che si perde, la politica va studiata, lui è sempre stato uno che gli hai dato una cosa, si è messo a lavorare a testa bassa, per questo ha avuto il riconoscimento e mantiene oggi tantissimi rapporti personali con tantissime persone, perché chi ha lavorato con lui ha visto la passione con cui ha fatto le sue cose e soprattutto la voglia di risolvere i problemi che poi è fondamentale per chi fa politica, perché se tu sei bravo, se tu fai politica però i problemi alla fine non li risolvi, la gente rimane esattamente dove era prima, i comuni rimangono dove erano prima, le persone non lavorano come prima e tutto torna come prima, lui credo che abbia lasciato un segno della sua attività non solo a San Mango, ma nel circondario, alla Mezza e in tutte le attività dove lui ha messo mano, però questa vicenda gli ha talpato le ali per molte cose, così come ha creato non pochi problemi anche a tutti gli altri membri della famiglia. Anto, io ti ringrazio per essere venuto qui, ti ringrazio personalmente anche per aver voluto che fossi io ad accompagnarti in questo percorso, ringrazio tuo papà che è venuto a trovarci e gli do la parola per un saluto e poi se qualcuno vuole fare qualche breve considerazione siamo qua. di parlare con lui direttamente, va bene. Va bene, sì. Va bene. Lo faccio io? Sta qui o è così? Puoi anche venire qui. Devo vedere qualche chi. Bene. Non era doveroso questo saluto da parte nostra verso l'onorevole Chefallo, però chi è stato testimone, per me è stato sempre un riferimento, ma è stato detto che c'è stato un prima e un dopo. Dopo l'arresto dell'onorevole Chefallo si è impoverita la Calabria e si è impoverito il nostro territorio. Io ricordo perfettamente la dica del Melito, una grande opera incompiuta, adesso viene ripresa continuamente dai media e l'onorevole Chefallo fu quello che la sbloccò e a seguito di questo noi andammo dopo le vicende che sono state raccontate a salutarlo e a ringraziarlo. Ma quando stavamo per bussare alla porta l'onorevole Chefallo, eravamo tutti un pochino sotto tono per dire, beh, andiamo a trovare questo avvissuto, questi periodi. In realtà non era così. Quando siamo entrati dentro ci ha accolto come se non fosse successo niente, con grande entusiasmo e questo poi noi l'abbiamo giudicato proprio non solo perché è un uomo forte, ma perché era forte della sua completa innocenza e quindi la coscienza lo rendeva sereno nelle relazioni. Certamente poi il vissuto è stato raccontato. Per cui, voglio dire, oltre alla strada abbiamo avuto anche la perdita per la realizzazione della radica che chiaramente in questo territorio era una ricchezza di prospettiva, eccetera. Ma ogni volta che si parlava con l'onorevole Chefallo, per noi zio Leopoldo, era come dire, si apriva una prospettiva, c'era una visione e quindi voglio dire che lui è un maestro su questo, in questo e probabilmente molti politici o politicanti della nostra attualità farebbero bene a rivolgersi a uomini di questa fatta per trovare, voglio dire, quella forza interiore per avere una visione per il riscatto del nostro territorio e il rilancio del nostro territorio. E quindi grazie, onorevole Chefallo. Prego. Fernando Rocca, socialista, è tutt'oggi coordinatore provinciale dei socialisti. Io ho un ricordo di Leopoldo come un amministratore e un politico estremamente operativo, siamo socialisti, siamo stati socialisti, appartenevamo a correnti diverse, c'era una fortissima dialettica, la politica allora era una scuola, ci si cresceva, si imparavano un sacco di cose dal punto di vista amministrativo e politico. La cosa che mi colpiva di Leopoldo era la sua concretezza. I politici di adesso fanno grandi castelli, costruiscono grandi castelli, però la politica è realizzazione, la politica è riuscire ad incidere nella realtà per cambiarla rispetto ai valori che noi portiamo, apparteniamo alla corrente socialista, siamo sempre stati vicini ai problemi dei poveri e dei deboli, ogni atto era destinato a far crescere, a far crescere la popolazione a livello regionale e a livello nazionale. La vicenda di cui state parlando è, Antonio ha fatto una cosa bellissima, oltre a aver restituito l'onore al padre, che è una cosa importantissima, ha fatto vivere in senso intimistico quello che può succedere quando un potere devia e là si trattava di poteri deviati di sicuro, perché voi non l'avete detto, lo dico io, era qualcosa da annunciato, Zio Lopoldo, non mi correggere perché sappiamo come si muovevano i poteri dall'anno 92 in poi, era un arresto annunciato perché bisognava far fuori un uomo che poteva togliere spatrio a quelli che avevano i contatti con una certa magistratura, questo bisogna dirlo, non bisogna ometterlo mai. La vicenda, diciamo così, noi negli anni 90, 92, 93, 94, per me il 92 è stato un anno orribile, perché noi abbiamo visto sostanzialmente un abbattimento di un'intera classe politica, non che non ci fossero, attenzione, l'acqua sporca c'era, ma c'era anche il bambino, c'è una dichiarazione, io voglio concludere con questo, noi che siamo stati garantisti sempre, io per esempio che ogni tanto ho frequentato i carceri, quella sensazione da quando si chiude che la porta, quel rumore, a chi ha coscienza di cos'è la libertà, di chi ha il potere di incidere sulla libertà di una persona, guardate che è un potere enorme, io ho conosciuto magistrati molto faciloni che parlano di politica, io quando li sentivo parlare, andò, Leopo ti giuro, dico ma come possono essere obiettivi questi? Altri invece che quando nel momento in in cui rogavano la condanna e leggevano il dispositivo si leggeva la sofferenza, infatti perché ogni volta che condanno sono sofferente, questa la libertà individuale nella democrazia è la cosa più importante, quegli anni furono anni terribili, certamente c'erano forme di deviazione, ma ci fu anche un grande disegno politico di abbattimento di un'intera classe dirigente che non meritava di essere abbattuta, non meritava assolutamente, perché io quando parlo di politica misuro i politici a livello nazionale e a livello regionale sulle realizzazioni, negli anni 80, 70, 80 in Italia ha funzionato l'ascensore sociale, noi l'abbiamo vissuto nelle nostre università, il figlio del muratore è diventato ingegnere, il figlio dell'infermiere è diventato medico, dagli anni 92 in poi questo ascensore si è fermato, perché non esiste più una classe politica capace di interpretare quest'anza di cambiamento, quest'anza di promozione sociale, si è fermato, guardiamoci un po' intorno e vediamo, io l'ho visto questo fenomeno e sono veramente allarmato, aver abbattuto quella classe politica è stato un errore grave, adesso vi leggo velocemente quello che ha dichiarato pochi mesi prima di morire il procuratore di Milano che è stato la mente politica, la mente politica di questa grande operazione ha dichiarato qualche mese prima di morire, ve lo leggo subito, scusate non vedo niente più io, non vedo niente, guardate che questo è il dei profondi sia tutti quelli che, se fossi un uomo pubblico di qualche paese asiatico dove come in Giappone è costume chiedere scusa per i propri sbagli, vi chiederei scusa, scusa per il disastro seguito a Mani Pulite, non valeva la pena buttare nell'ortiche il mondo precedente per cascare per quello attuale, Francesco Saveri e Borrelli. Questa è la fine dell'ortiche. Grazie. Sono altri interventi? Brevemente, se facciamo concludere, l'onorevole Chieffè. No, io veramente avrei due domande da fare più che un intervento perché ricordandomi che siamo colleghi, mi sono ricordato che sono 13 anni che siamo insieme, quindi ho avuto anche l'onore di vedere il libro dalla sua prima pagina, l'abbiamo letto insieme, l'abbiamo riletto, l'abbiamo corretto sul treno, andando a Roma, tornando. La domanda che forse non ti ho mai fatto, se fosse successo oggi, tu hai un figlio che è Ludovico, che da qualche mese si chiama anche Leopoldo, se fosse successo oggi che quel ragazzo di 23 anni aveva il papà privato della sua libertà, con l'odio che c'è nei social, con i cosiddetti webbeti, come li chiama Mentana, il direttore del Tg la 7, o le webbeti, che sono forse ancora peggio, che sono quelle donne che offendono altre donne. Che cosa sarebbe successo in te? Il dolore di quell'evento ti avrebbe protetto da tutto oppure avrebbe lasciato un segno forte? E la seconda domanda nasce dalle presentazioni che tu hai fatto nei comuni. Siccome ero presente, perché siamo insieme, ogni telefonata che tu hai ricevuto sull'invito che ti hanno fatto partiva più o meno sullo stesso canone. Ho letto il tuo libro, Antonio, molto bello, ti vorrei invitare per presentarlo. Mi raccomando, porta tuo papà, perché con lui ho fatto mille battaglie differenti. Grazie a lui ho realizzato l'infrastruttura nel mio comune, grazie a lui qui abbiamo una piazza che in questo momento serve per organizzare iniziative. Allora la domanda la faccio a Fernando direttamente. Cosa sarebbe successo se quell'evento non ci sarebbe stato? E cosa ha cambiato quell'evento in quell'anno? Ma non ci fossero stati arresti. Non ci fossero stati questi arresti. L'uomo ha riferito dei centimiliardi che poi sparirono dal bilancio. No, avremmo avuto una strada che non c'era. E le dighe? Tra le altre cose. E tra le altre cose le dighe, allora io voglio rispondere, sicuramente oggi sarebbe stato più complicato, perché le notizie purtroppo veramente volano, quindi allora la stampa e i venivano letti da tutti, quindi non è che la notizia non circolava, in televisione se ne parlò. Però il sistema di comunicazione dei social è molto più veloce e arriva ovunque. Per cui tu hai una persona che magari ti insulta e che normalmente ce l'avevi nella piazza del paese, lo ha detto Umberto Eco come è la verità, magari io e te qualitiamo, lo sappiamo qui, lo sanno magari nel paese perché si passa la voce, oggi basta che tu lo racconti, lo metti sulla rete e il fatto che nessuno avrebbe saputo fuori dalle mure di Carlopoli lo sanno in Calabria e in alcuni casi anche in Italia. Quindi sarebbe stato più difficile gestire la situazione, soprattutto perché come dici tu è una catena poi dove tante persone che non ti conoscono, che prima ti potevano insultare in piazza, ti insultano in questa piazza virtuale e quindi con una potenza infinitamente superiore rispetto a quella che accadeva allora, perché quantomeno parlavano i giornali e le televisioni, oggi parlano tutti, quindi le televisioni bene o male mantenevano un approccio, oggi sui social ti insultano come niente ed è una cosa fortissima. Sulla seconda questione invece Antonio, aggiungo un'altra cosa, poi magari mio padre che prego di essere breve nell'intervento che farà, non perché mio padre è sempre lungo, ma anche perché so che poi quando vieni in questi posti, noi siamo andati prima e vi racconto anche questa cosa, siamo andati prima a salutare una signora che è cresciuta, a Carlopoli mio padre c'è stato diverso tempo, si sono visti, con Antonio siamo andati, si sono abbracciati, questa signora si è messa a piangere, lo ha abbracciato fortissimo, perché il tenore dei rapporti poi è questo, mio padre si è spinto poi a raccontare molte cose, quando una realtà è sua come Carlopoli, però i danni sono stati enormi, veramente enormi, car Antonio, la diga, le dighe su cui mio padre nel giro di qualche mese era riuscito a risolvere problemi che si tiravano da anni con imbrogli, perché ha fatto bene prima Fernando a dirlo, non è che non c'era il malaffare allora, ma mio padre scoperchiò un sistema di alimentazione, di flusso di denaro che arrivava nelle mani di alcune aziende, che grazie ai rinvie e alle leggi di allora si prendevano centinaia di milioni senza fare nulla e bloccata, la diga era bloccata come è stato fatto per i depuratori per anni, dove non sono stati fatti interventi perché c'era la lobby degli affari che grazie alle urgenze si riempivano le tasche di migliaia di Euro, centinaia di migliaia di Euro, la porcheria entrava nel mare, allora facevi il provvedimento di urgenza e la sistemazione di una valvola che costava cento euro te la facevano pagare quindici mila euro, quindi i danni sono stati tanti, ma credo che mio padre adesso con il suo intervento qualche elemento in più di riflessione ce lo potrà dare. Onore ora che fallo, grazie per essere venuto qui, ti do la parola. Buonasera, vi confesso una cosa, io non vado generalmente a quando Antonio presenta questo suo libro nelle realtà dove viene invitato, dove il libro si presenta, qualche volta mi è capitato. Mi è capitato perché come stasera dicevi, mi sono venuto volentieri qui a Carlopoli perché ha ragione lui, Carlopoli fa parte un po' del patrimonio dei miei affetti, quando ero giovanissimo, dico giovanissimo, appena diplomato, sono stato bracciante agricolo con questa qualifica ad un cantiere della forestale dell'Operasile qui sopra, al piano di Jurence si chiamava e si chiama penso adesso anche nello stesso modo. E quindi battevo queste zone, queste parti, Carlopoli, Cicala, Panettieri, poi più sopra il villaggio Racisi, il villaggio Mancuso, ma il mio di massa è bianco e tutti questi paesi 5 castagne, poi a volte scendevamo in Soveria Mannelli che era la capitale del comprensorio qui dove la sera facciamo le passeggiate per guardare le signorine, per stare insieme magari a qualche bella compagnia femminile. Sono stato molto volentieri, vi ringrazio, ringrazio voi che siete qui presenti, ringrazio che ho organizzato questo incontro. Non entro nel merito del discorso del libro di Antonio, perché peraltro egli lo ha scritto senza dirmi nulla, non solo non mi ha detto nulla, ma probabilmente perché pensava che venisse in qualche modo indirizzato male da un qualche colloquio col papà. Il papà ha scritto, mi ha detto dopo va bene, mi ha fatto bene, lui ama scrivere, io amo molto leggere, lui ama scrivere pure, quindi va bene così. E ho preso poi dopo di questo emozionante cammino che egli ha fatto scrivendo rispetto a questa vicenda. Mi voglio fermare soltanto, io invece, a voi che siete qui, ma i giovani in modo particolare, anche per essere stringato, come dice Antonio, perché il tempo è tiranno, sui danni che sono stati prodotti alla società in generale della Calabria, ma in queste zone in particolare. Memore di questa mia presenza in queste zone, quando io ero presidente della provincia di Catandaro, andavo girando e conoscevo a menadito quella realtà e le sofferenze che vi erano nei comuni, feci una politica programmata sulle aree interne e allora facendo questa politica programmata studiamo la possibilità di far uscire dallo stato di disagio interno. Questa è realtà, con questa famosa strada, che adesso è passata con un nome strada che non c'è, che partiva dal bivio di Marcellinara e scendeva attraverso queste zone qui, Serra Stretta, collegamenti con Carlopoli, Sovaria Mannelli e poi andava a Rogliano, questa strada che in buona sostanza metteva in comunicazione 18 comuni che sono comuni interni alle realtà che vivono, mettele sulle grandi vie di comunicazione. Primo fatto, quindi una strada per aprire prospettiva ai comuni interni e aprire economia per i comuni comuni interni. Secondo valutazione, per andare da Catanzaro a Cosenza, come voi sapete, bisogna scendere al svincolo di La Mezzia e fare poi l'autostrada. Questa strada, che era, vi ricordo, a scorrimento veloce, non una stradina così, accorciava Catanzaro su Cosenza di 40 km, e dico 40 km, sono tanti 40 km, mettendo sia i comuni che noi avremmo tolto di isolamento, sia chi intendeva unire Catanzaro a Cosenza, mettendoli in uno stato di grande miglioramento trasportistico dei trasporti. 98 miliardi. Qui Antonio queste cose non le ha dette perché evidentemente non le sapeva, perché sono episodi tecnici. 98 miliardi che io, caro Fernando, dove sei, che io estrapolai da un programma comunitario, fondi fio si chiamavano, facendo miracoli, lasciamo stare come, perché? Perché il problema dove sta quando si amministra? Deve essere come il gatto col topo. Se tu sei pronto subito a prendere il finanziamento, te lo prendi e non sei pronto e il finanziamento ti scappa. 98 miliardi. Io mi sono solo preoccupato a trovare i 98 miliardi per realizzare questa strada che avevo ipotizzato nell'ambito della programmazione dell'area interna, dopodiché della strada. Non mi sono interessato per nulla a livello tecnico. La cosa grave è questa, è anche ridicola. Perché ho dato la strada, la sua progettazione. Nella progettazione sì, Fernando, perché la progettazione è che noi avevamo l'ingegnere Angotti, che era il capo dei capi, il capo dei capi, e il presidente dell'ordinazione degli ingegneri, io lo diamo a lui che è la massima scienza e coscienza all'ingegneristico. Poi il resto le procedure le facesse l'ufficio competente. Ed io non mi sono più interessato di nulla, fino a quando non sono stato arrestato. Arrestato per che cosa? Per falso in atto pubblico. Il falso che io avrei, o avevo commesso, che cos'era? Che su una scheda che appoggiava il progetto, c'era scritto che il progetto era di massima, che il progetto era esecutivo quando il progetto era di massima. Ma io quella scheda non l'avevo mai vista. Qui il grottesco, il grottesco che non conoscete e che Antonio forse conosce certamente, ma non l'ha trasferito nel libro, che è il suo libro di sentimenti anche, che la scheda era firmata il Presidente della regione e il Presidente della provincia. Quando nel processo, dopo i tre mesi, ci si accorge perché spontaneamente che aveva firmato la scheda, dichiarò, ma questa scheda per il Presidente l'ho firmata io e allora che farlo è fuori da ogni processo, è fuori da ogni accusa. Perché non chiudi il processo, lo assolvi subito e metti nei contratti che farlo di rifare politica? Mi hanno lo stesso rinviato da processo. Sentite e tremate, due anni e mezzo di processo. A due anni e mezzo era stata stabilita la seduta di Arringhe per chiuderli il processo e decidere. A due anni e mezzo il Presidente di quel Tribunale, Dottor Baudi, viene ricusato dalla Procura quando il processo stava per chiudere. Sapete perché? Perché la di lui moglie era stata una dipendente regionale e probabilmente il Presidente del Tribunale, avendo una moglie dipendente regionale, e stato che farlo di assessore regionale, la di lui moglie poteva avere avuto contatti con l'assessore che farlo e quindi il Presidente del Tribunale poteva non essere obiettivo nell'esprimere il suo giudizio finale. Quindi non solo hanno tenuto conto della dichiarazione di colui il quale aveva firmato la scheda dicendo che farlo non c'entra, quando hai due anni e mezzo il processo si blocca e ripassano due anni e mezzo ancora. Io al quinto anno ho avuto giustizia, cinque anni nella vita di un politico sono tanti. Essendo io uno di quelli, come diceva Antonio Liggio, è fortemente Liggio, e peraltro in un valore mese ho portato che qualcuno avesse potuto dirmi tutti i candidi ancora e sei stato arrestato. Finché non esco dal processo io non farò più politica. Scrisse una lettera ai miei 27 mila elettori che mi elessero alla Regione la prima volta, carissimi, considerato che sulla testa di chi pende ancora processi e io sono uno di questi e considerato che chi fa politica non deve avere sulla testa nessun problema di processi in essere, io rinuncio a candidarmi fino a quando la cosa non sarà definita. E quindi ho rinviato di cinque anni ulteriormente la mia possibilità di entrare in politica facendo questo danno. Che è successo qui con la strada che non c'è? Una volta arrestato chi è fallo? Si è bloccato tutto e l'autorità giudice bloccò il processo, sequestrò gli atti, la cosa rimase in quel modo. L'impresa chiese i danni alla provincia, la provincia fu costretta a liquidare circa 30 miliardi di danni all'impresa per i mancati guadagni e quei soldi, una parte si andano per i danni, l'altra parte si andò perduta. Il risultato? La strada che non c'è, Marcellinari, c'è verso le zone interne per Soveremane, non si è fatta e difficilmente si farà perché ci vuole qualcuno che abbia quelle che si chiamano balle politiche per trovare i finanziamenti in questo periodo difficile e per portare avanti un progetto di questo genere. Punto. Visto che c'è il mio grande amico, è stato testimone dell'attività svolta da sottoscritto nell'ambito quando ero a Soveremane per i pubblici, grandi dighe e non grandi dighe, abitato come ero io perché non ero un uomo del dire ma ero un uomo del fare, andai a guardare questi nove grandi invasi in Calabria che erano datati anni 50, progettati durante la Cassa per il Mezzogiorno, ovvero sì la Cassa per il Mezzogiorno e quant'altro, nove grandi invasi, diga è solo uno o è solo due, diga sul Menta, diga sull'Alaco, diga la nostra qui che purtroppo ahimè sul Melito, diga di Laurenzana eccetera eccetera eccetera, diga sul Metramo. Sono andato a vedere queste dighe, andato a vedere queste dighe e faccio, ce l'ho ancora io questo, Antonio non l'ha visto e faccio un filmato su tutte le dighe con la televisione dell'ora e con il telespazio dello stato in cui le stesse si trovavano e mi accorgo che la diga per esempio sull'Alaco era bloccata da due anni e qui il malaffare, bloccata da due anni per una perizia di 4 miliardi, chiesi al direttore dell'ora come mai? Datemi questa perizia come i 4 miliardi, una perizia alla Cassa di 4 miliardi datemi che la vado a provare subito, sapete perché era bloccata? Perché l'impresa percepiva un miliardo a mese di fermo cantiere, quindi 21 mesi, 21 miliardi a fronte di una perizia di 4 miliardi che giaceva alla Cassa per il mezzogiorno. Fece a provare la perizia e il progetto andò avanti eccetera eccetera e il direttore del lavoro venne e mi disse onorea, ma che cosa avete combinato? Deve stare attenti un po', perché se l'impresa da 100 milioni, 100 milioni a un gruppo di fuoco di Gioia Tauro, a spararvi nelle gambe, non ci mette nulla. E mi dico allora, scusate, avremmo dovuto continuare a tenere i lavori bloccati fin quando non si finiva il finanziamento? Dica sul melito. Dica sul melito, c'erano due grandi personaggi del Consorzio di Bonifica in quel periodo, l'avvocato D'Andrea e il presidente Manno, Manno Senior, il grande gigante. Lavori bloccati, l'impresa Staldi aveva fatto il 30% di ribasso su 500 miliardi, 150 miliardi, grosso modo per raccontare un po' velocemente la cosa, per rendervi conto di che cosa era la politica e per cui io dovevo essere defenestrato dalla stessa. Il prefetto Cupiolo allora di Catanzaro fece una riunione perché, su mia sollecitazione, ha perso la prefettura perché questi lavori non devono avanti. Dopodiché fissiamo un appuntamento a Roma presso la Direzione Generale dell'Ambiente con i Direttori Generali dei Ministeri Vali. Andammo lì, era il 17 del mese di dicembre e il 20 mi arrestarono. Andammo lì, praticamente abbiamo capito tutti che l'impresa Staldi stava facendo una serie di problemi perché voleva tirare fuori i famosi 150 miliardi del 100% di ribasso. Io senza averlo solo la lingua, quella sera, dopo aver sentito direttori generali che mettevano in dubbio, direttori generali che mettevano in dubbio, che infatti erano d'accordo con l'impresa, disse, sentite, ma qua c'è, a me pare che stiamo giocando per fare prendere i 150 miliardi dell'impresa, io non ci sto. Il prefetto mi disse, non restate vizziti, mi fate ammazzare e mi fate ammazzare con me, andateci piano. Risultato? La diga sul melito è bloccata, la diga sul melito non è fatta, la diga sul melito difficilmente in questi tempi prenderà il volo per come deve prenderla, che è un grande progetto di sviluppo dell'intera area nella quale la diga. Queste sono le cose che vi ho voluto dire perché sappiate che in buona sostanza, il più delle volte, quando si vuole fare politica che si guarda con obiettivi importanti verso l'orizzonte, alle spalle o dai fianchi ti arrivano bordate, cannonate che manco te le immagini. È possibile, e chiudo, che questa Calabria è così tanto bestemmiata da dover essere inchiodata al triste destino dell'isolamento e della povertà, con le ricchezze che possediamo e con la possibilità e la suscettibilità di miglioramento che abbiamo. Io sono dell'avviso che una nuova era davvero di quei giovani, quelli che ci sono, deve aprirsi, ma si può aprire soltanto con la buona politica e con il coraggio di avere sempre la schiera di diritto, la testa alta, sapendo che con gli occhi, se oltre la siepe si guarda l'orizzonte, non si guardano gli interessi spiccioli di questa o di quella persona o di questo o di quel luogo, ma si guardano soltanto gli interessi della collettività. Mi auguro che questo possa avvenire e sul sacrificio, sul dolore che abbiamo patito e che ho patito io e come hanno patito tanti altri, purtroppo, su questo sacrificio si possa edificare una società più giusta. Ringrazio Antonio per questo lavoro che ha fatto, lo ringrazio. Un'altra cosa che volevo dire, brave le ragazze che hanno letto, io questo libro non l'ho letto, lo dovete sapere che non l'ho letto, lo sto leggendo attraverso quando ascolto chi lo legge per conto mio. Grazie per avermi dato qualche spunto di riflessione. Grazie signor. Grazie all'onorevole Chefallo, ringrazio tutti voi per la presenza, ringrazio l'associazione Liberi.tv che ha ripreso tutto l'evento. Vi ricordo che lo stesso è visibile sul sito www.liberi.liberi.tv o su Youtube. Chi ha acquistato ha intenzione di farlo il libro e vorrebbe la dedica. Antonio è qui. Grazie a tutti.